Comincia il G20, il forum mondiale sul clima e sull'ambiente. La sicurezza, signor Prefetto. Sì, ormai è tutto pronto. Abbiamo lavorato intensamente in queste settimane. Nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ci siamo ripetutamente occupati di tutti gli aspetti della sicurezza che riguardano innanzitutto la protezione delle personalità che verranno a Napoli e quindi anche la protezione dei luoghi dove si svolgeranno le riunioni e dove le personalità soggiorneranno in modo da garantire appunto uno svolgimento ordinato. Non si può parcheggiare né auto né moto. Insomma, i napoletani dovranno sopportare diversi disagi. Sì, avremo dei disagi credo abbastanza limitati dovuti però principalmente a questa difficoltà della chiusura della galleria che in questo momento faceva confluire la maggior parte del traffico sul lungomare perché le zone che rimarranno chiuse sono appunto il lungomare nella prospiciente ai grandi alberghi e la parte di piazza del Pebbiscito. Credo e chiedo che i cittadini napoletani abbiano pazienza rispetto a queste difficoltà alla luce del fatto che la città di Napoli avrà resistito. Domani è anche un'importante manifestazione. Ecco, che cosa ci si aspetta? Potrebbero esserci, diciamo, nella dialettica, poi sfociare in incidenti? Siamo rispettosi delle opinioni di tutti. Crediamo che in democrazia tutti abbiano il diritto di manifestare liberamente anche il proprio dissenso. Ovviamente nel rispetto della legge le forze dell'ordine sono lì, saranno in piazza domani per garantire la possibilità di ogni cittadino di esprimere le proprie opinioni.